Buonasera visualizzazioni e bentornati in questo nuovo video, video nel quale vorrei un attimo riprendere qualcosa di cui abbiamo parlato abbastanza in questa ultima settimana, forse un po' troppo e un po' troppo spezzoni. Sto parlando ovviamente del caso Giulia Cecchettin, sto parlando di tutto quello che siamo andati a vedere nel corso delle varie giornate e sto parlando anche di alcune cose che ho detto e che mi auguro di essermi spiegato male io. Perché altrimenti vorrebbe dire che c'è proprio della malafede da parte della gente in generale e qui si spiegherebbe tantissimo però un attimino datemi un attimo e vi spiego tutto quanto nel dettaglio. Prima di cominciare ovviamente ragazzi ve lo taglio corto questa volta lo sponsor perché non mi sembra più di tanto il caso ma qui sotto in descrizione avete tutte le cose di pampling se volete supportare il canale, se volete risparmiare avete il mio codice sconto, sconto, calze gratis, avete tutto quanto, quaderni, felpe, calzini, tutto quello che volete. Andate a fare un salto ovviamente sul sito ma adesso non perdiamoci in chiacchiere il video sarà già abbastanza lungo di per sé non voglio finire a dargli la mazzata finale con un altro carico da 90 perché sarebbe veramente un film. Dunque riassumiamo un attimo il caso Giulia per chi non l'avesse ancora sentito, per chi non fosse al corrente. Il caso Giulia ha fatto parlare così tanto di sé semplicemente per il fatto che in realtà la dinamica non è diversa da tanti altri. La dinamica è molto simile a tanti altri casi che ci sono stati nel corso di questi ultimi migliaia di anni quindi non stiamo parlando di niente di nuovo. Stiamo parlando di un qualcosa che purtroppo ci è molto familiare ovvero violenza all'interno di una coppia, relazione tossica, relazione in cui c'è una parte troppo buona, una parte troppo manipolativa e tutta questa serie di cose qui che vanno avanti purtroppo dall'alba dei tempi. Io ho iniziato a sentir parlare di questo caso perché alcune mie amiche che abitano in Veneto avevano messo, visto che comunque sia frequentava, mi sa addirittura forse la stessa università che frequentavo io, non voglio dire, comunque sia io fino a qualche anno fa vivevo da quelle parti. Quindi non penso che sia stato questo a farmi colpire così tanto da questo caso però sicuramente almeno in minima parte potrebbe aver influito, non lo so. Comunque sì ho visto questi post in cui si parlava di questa ragazza scomparsa però ne vedo tanti tutti i giorni quindi lì per lì non è che mi abbia colpito più, ovviamente dispiace, ovviamente dispiace. Però lì per lì nella mia testa era l'ennesima persona scomparsa e c'era tutta già quella serie di cose del tipo ah l'ultima persona ad averla vista è il ragazzo, questo e quest'altro. Poi ovvio queste notizie vanno anche un attimo prese con le pinze perché non si sa mai e quindi lì per lì ho detto boh forse c'è qualcosa che non ho capito. E infatti poi dopo un po' di tempo hanno trovato il corpo di Giulia ed è spuntato tutto quello che sappiamo, ok? Quindi questo è proprio il caso di Giulia for Dummies, ci abbiamo. Ciò che vorrei fare oggi in realtà sono un paio di considerazioni, chiamiamole finali su questa vicenda perché involontariamente mi sono messo ad approfondirla molto nei suoi aspetti un po' meno chiacchierati e mi è uscita qualche frase di qualcosa che penso che comunque sia ribadirò anche in questo video ma che probabilmente potrei non aver fatto passare come volevo quindi cerchiamo un attimino di capirci meglio, cerchiamo di capire certe cose meglio. Quindi perché mi ha colpito così tanto questo caso e perché sono qui a parlarne oggi per la terza volta probabilmente? Perché ragazzi potrebbe non sembrare però per quanto riguarda questo tipo di storie, questo tipo di cose, mi sta sempre molto qua il come viene presa a livello di opinione pubblica, una cosa del genere. E quanto superficiale venga resa tutta quanta la cosa semplicemente perché la gente vuole questo. Purtroppo ragazzi diciamo il popolino non è che brilli per attenzione media, non è che brilli per soglie dell'attenzione. Come è giusto che sia in realtà perché la maggior parte delle persone, poi per me non è giusto però vabbè. Quindi si è limitata molto la cosa al sì, mostriamo solidarietà giustamente, facciamo vedere che ci dispiace giustamente, vorrei pure vedere quello il minimo e vorrei fosse chiara questa cosa qui. Io penso che tutto quello che si è fatto fino ad adesso sia il minimo, non una grande, dovrebbe essere fatto tutte le volte che c'è una vita e a prescindere da chi sia un uomo, vittima di una cosa del genere, vittima di una violenza del genere. Andrebbe fatto molto di più, ma io non sto parlando del punto di vista di ciò che si vede, perché quello che si vede sono marce che ci sono state e ci devono essere, sono dei comizi che devono esserci e ci sono stati. Sono tante cose che devono esserci e ci sono state, il punto però è che personalmente io considero queste cose il minimo, perché quello è il dare il buon esempio, ok? Quello è il, ok, è successa questa cosa, è terribile, bisogna far capire alle persone in qualche maniera, oh guardate sta roba qua è sbagliata, dovreste saperlo di default, però ve lo ricordiamo, è sbagliata, cerchiamo un attimo di capire cosa è successo, bla bla bla. Quello che purtroppo nella vita di tutti i giorni sto parlando, quindi in questo momento per favore dimenticatevi che esiste Instagram, dimenticatevi che esistono i social per questo video qui, dimenticatevelo, non esistono. Stiamo parlando della vita di tutti i giorni, quindi di quello che vedete tutti i giorni, ok? Io sono certo che le stesse cose che vedo io tutti i giorni le vedano anche tutti gli altri, cioè non penso di essere speciale per questo punto di vista, non penso di essere una persona che vive in un mondo tutto suo, penso di vivere molte cose che vivono tante altre persone, magari in versioni diverse. Poi alla fine è la vita, cioè nel senso viviamo tante esperienze molto simili ma con attori diversi. Ora, ciò che ho visto e che poi mi ha spinto a dire che io non vedo tutto questo grande risultato da parte di tutto il, chiamiamolo flash mob che c'è stato, e ripeto, ci deve essere, però il risultato di una cosa del genere dovrebbe essere un miglioramento anche soltanto dello 0,0001% delle persone che partecipano a queste cose. Io non ho partecipato, quindi vorrei fosse chiarare questa cosa anche perché per quanto sto impicciato, per quanto sto fuori dal mondo per certe cose non sapevo manco che ci fosse stata una cosa del genere. Nel momento in cui l'ho preso ho detto, ok, qual è il risultato di una cosa del genere? Che in realtà non è la prima marcia di nuovo, non sono le prime cose che vengono fatte, anche se ripeto è bellissimo che sia stato fatto. Il fatto è che tanta gente, che io anche di persona, ho sentito parlare di quanto è tragica questa cosa, di quanto dovrebbe essere presa più sul serio la salute mentale, ed è giusto, di quanto dovrebbe essere presa più sul serio la faccenda del costruire delle relazioni sane, che è giusto. Però ciò che poi mi sono tratto davanti è la realtà. Purtroppo ragazzi la realtà è fatta di tante contraddizioni, ognuno di noi è fatto di tante contraddizioni e la natura umana. Però queste contraddizioni a mio parere, in certi casi, dobbiamo avere abbastanza amor proprio a dire, magari no. Qual è il problema di questa faccenda quindi? Il problema è che un sacco di persone, non so per quale motivo, abbiano preso la morte di questa ragazza come se, passatemi il termine, fosse stata messa in croce lei e allora tutto il mondo si sia liberato di un male. Cioè, ragazzi, svegliamoci un attimino, quella lì è stata una vittima, quella ragazza è stata una vittima. Non è stata la soluzione a tutti i vostri problemi. Perché no? E' stata semplicemente la dimostrazione di qual è l'esito di una certa dinamica che non viene fermata in tempo. E purtroppo, ragazzi, le relazioni tossiche sono un germe brutto da combattere. Sono un qualcosa che non ti accorgi che ti fa male fino a che non è troppo tardi. Il problema principale, dicevo, è che io da parte delle persone, e questa cosa purtroppo, io queste cose le noto, non ci posso fare niente. Da parte delle persone io non ho visto, dal punto di vista delle azioni, e so che cercare la coerenza di un essere umano è come veramente andare da un salumiere e lamentarti perché sei vegano. Cioè, nel senso, non è una cosa intelligentissima da fare, però tempo un po' perso, me ne rendo conto. Ciò non toglie che mi sia veramente dispiaciuto vedere che, di fronte a tante cose, il comportamento della maggior parte delle persone non sia cambiato di una virgola, nonostante tutto questo gran parlare di, ah, adesso cambierà tutto, adesso faremo, ma che cosa? Ma dove? Ci sono delle persone che ho sentito dire queste cose qui, che sulla carta sono giuste, giustissime, però, poi vai a vedere un attimino nella loro vita privata, che tipo di relazioni si portano dietro, delle tossicate incredibili, tossicate non molto diverse da queste, chiediamoci. Nuova di moda, per esempio, la roba del malessere, madonna mia, cioè, è un qualcosa che io pensavo fosse relegato solo ai social, che magari sui social è tutto più esagerato. E poi io ho fatto due conti e ho detto, ma effettivamente questa roba da qualche parte è nata. Il punto è molto semplice, tutto questo clima che nel corso degli anni si è creato del prendere questa figura del malessere e fare, mamma mia, quanto è bello, quanto è misterioso, sì, mi pesta i botte, però quanto è misterioso, mamma mia, ecco, questa cosa crea danni a livello sociale, questa cosa a livello di ambiente umano, diciamo, crea dei danni perché normalizza quella che è una figura pericolosa, quella che è una figura di qualcuno che dovrebbe andarsi a far curare, non dovrebbe stare lì a farsi idolatrare, però questo succede e il motivo per cui ho fatto sembrare probabilmente, e magari mi scuso di questa cosa qui, cioè, non magari, mi scuso, però magari il motivo per cui potrebbe essere sembrato che io volessi dire alle marce non servono a niente queste cose qua, ovviamente no, non sto dicendo questo, perché altrimenti sarebbe dire al gay pride non serve a niente, perché bla bla bla, no, ci sono dei motivi ben precisi, non è la stessa cosa ovviamente, però si tratta sempre di una marcia con degli scopi, ok? Chiariamoci. Quello che intendo dire io è che una marcia, cioè, fermarsi a dire abbiamo fatto la marcia, non serve a niente, perché altrimenti lì è come dire abbiamo fatto la marcia della pace, sticata, a posto, vado a buttare i sassi al mio vicino di casa, alla finestra. No, non funziona così. E' questo che mi è dispiaciuto, perché, cioè, mi sono anche un attimo immaginato, ma questa qui, sta ragazza, se vedesse un attimo qual è il comportamento della gente che tanto si riempie la bocca con il suo nome, che cosa potrebbe pensare? Cioè, lei che ci ha rimesso la vita, effettivamente, cosa potrebbe pensare nel momento in cui vede un sacco di gente che sta lì e continua a fare la stessa antica cosa, però con il bocca in nome suo? Io non sarei fiero, onestamente, e sarei parecchio rattristato della cosa. Ovviamente, se vi parlo di relazioni tossiche, non vi parlo di tizio possessivo, è semplicemente perché la natura umana non fa tanta distinzione sul fatto che tu sia maschio o femmina o quel che vuoi. Quindi, se hai una certa caratteristica, ce l'hai. Cioè, se sei una persona estremamente possessiva, estremamente antisociale, se vogliamo, tutte queste cose qui, ragazzi, queste cose esulano dal fatto che tu sia maschio, femmina, non binario, quel che ti pare. Cioè, esulano. Il fatto è che tu sei un essere vivente con quelle caratteristiche. Ma ci sono delle caratteristiche che bisogna un attimo imparare a insegnare alle persone che non sono una particolarità del ah ah ah, quanto è geloso, ah ah ah, quanto è carino. No, quella roba sono cose da trattare. Sono delle faccende da mettere in mano a dei professionisti. Sono delle faccende che richiedono anche un lavoro lunghissimo. Quindi, questa romanticizzazione che c'è di questa roba, soprattutto per quanto riguarda la mia generazione, è preoccupante. Così come tante altre cose che sono state normalizzate e che a mio parere non dovrebbero, io le reputo preoccupanti. Poi sarò io, non lo so. Io so di essere un po' fuori dal mondo per queste cose qui. Però, raga, tutta questa serie di cose contribuiscono a creare un ambiente malsano nel quale tutti noi possiamo crescere ed evolverci. Ok? Quindi, vedere una ragazza che prende, ci rimette la vita a causa della sua relazione tossica, a causa del fatto che si trovasse in questo ambiente terribile per questa relazione, e vedere che comunque la gente non impara niente da questa cosa qui, per me, cioè, è veramente grave. Perché vuol dire che tutti quanti semplicemente aspettano il prossimo. Aspettano il prossimo che timbra il cartellino, che ci rimette la vita. Ci fai quei due post e arrivederci. Non hai imparato niente. Magari sono anche le stesse persone che si chiedono ma studiare storia a che serve? Che tanto sono cose vecchie. Stesso identico concetto. Tu studi quelle che sono degli errori del passato per non ricommetterli in futuro. Altrimenti ti dimentichi il fatto che qualcosa sia pericoloso. È un po' come di il fuoco, perché devo sapere che mi fa male se ci metto la mano sopra? Dove esti? Perché altrimenti poi ci metti la mano sopra. Ora, tutto questo discorso dove vuole andare a parare? In realtà non penso che voglia andare a parare da nessuna parte, quindi prego di non cercare significati dove non ci sono, come è stato già fatto in realtà, perché anche questa è un'altra cosa che contribuisce a creare un ambiente tremendo. Quindi, spiegazione di tutta questa roba a prova di stupido. Ho io detto che la colpa di una cosa del genere sia della vittima che non si schiude in tempo una cosa del genere? No, non ho detto questo. Ho detto che non bisognerebbe essere liberi di avere il tipo di relazione che si vuole. Non ho detto questo. Però, una relazione malsana, beh, non fa. Proprio per etimologia, se è malsano, ti farà bene, non lo so. Se c'è la febbre, ti farà bene. Non penso, quindi. Cosa ho detto, invece? Ho semplicemente esposto delle mie preoccupazioni su quella che è una completa maniera molto sciallona di prendere una cosa molto seria dalla quale si potrebbe imparare molto, dalla quale tante persone potrebbero veramente migliorare quella che è la loro situazione, semplicemente imparando. Io tollero molto poco quelli che sono gli sprechi di potenziale, ragazzi. Penso che si noti come cosa. Tollero molto poco il fatto che si abbia l'opportunità di poter imparare qualcosa, di potersi evolvere e comunque sia buttarla dalla finestra perché sì. Questo penso che sia anche uno dei più grandi motivi per i quali io non mi fido tanto delle persone in generale perché non sai mai che cosa potrebbe succedere e soprattutto succedono queste cose qui. Io non lo so, cioè magari vi spiego come funziona da questo punto di vista così vi faccio capire meglio perché questa cosa mi turbi così tanto. Come funziono io? Semplicemente capisco che una cosa è in una certa maniera, sono molto meccanico per alcune cose, capisco che una cosa è in una certa maniera, non la faccio, con molta probabilità, mai più. Questo mi limita probabilmente dal punto di vista del magari concedermi ogni tanto qualche cosa, sì, però mi tiene anche al sicuro. Questo è il motivo per cui io al momento sono single, perché non voglio ficcarmi e mi è capitata l'opportunità di ficcarmi in qualche relazione che però sarebbe stata una tossicheria oppure sarebbe stato qualcosa di pesante, sarebbe stato qualcosa di non adatto, diciamo, ok? E qua poi si aprono tantissime porte, non entro nel merito perché sono fatti miei. Però anche questo si è perso, non capisco per quale motivo, si è perso il cercare magari la persona giusta. Una cosa che mi viene ripetuta costantemente, sì che te ne frega, intanto fai. Non è un qualcosa che mi piace come concetto. E penso in tutta sincerità che sia un concetto che sta avvelenando la vita di tante persone perché le relazioni sono un qualcosa di complicato e sono un qualcosa che purtroppo, purtroppo o per fortuna, richiede, insomma, come dirlo, è un qualcosa che richiede una certa attenzione, una certa selezione. Poi, oh, se non te ne frega niente, sei ovviamente libero di fare quello che vuoi. Il punto è che, a mio parere, a mio personale parere, queste cose prima o poi ti presentano il conto. Nel senso, per tutta la vita hai sottovalutato qual è il potenziale di queste relazioni, oppure hai manipolato gli altri, oppure sei stato troppo buono con gli altri. Ecco, tutte queste cose hanno ovviamente una conseguenza. Molte volte però, anzi, probabilmente la maggior parte delle volte, non vengono fatte con cattive intenzioni o addirittura non ci si rende conto di essere la vittima di una cosa del genere. E questa è la fregatura di queste cose qui. Tu non te ne rendi conto fino a che non è troppo tardi, come dicevo prima. Quindi, questo è il motivo per cui è stupido dare la colpa alla vittima. Perché è come dare la colpa a qualcuno che, non lo so, prende una medicina, che gli stavo detto, per tutta la vita. Sì, va benissimo, eh. E poi in realtà è un veleno. E quello è il punto. Come fai a saperlo? Sei un medico? No. E anzi, penso che siano veramente poche al mondo le persone capaci veramente di fare da dottore per le relazioni. È difficile per uno psicologo. Figuriamoci per una persona che parte da zero. Capito? Io spero di essermi spiegato un po' meglio, ragazzi. Spero di aver fatto capire un po' di più quello che intendevo. Più che altro perché mi è veramente dispiaciuto ricevere, soprattutto in privato, malloppone, proprio in papironi, di gente che penso, non lo so, mi sono spiegato male io. Non lo so. Magari andate per arrivare a quei video, mi dite voi. Non lo so. Non sono io quello che deve decidere questa cosa. Non sono io quello che arriva e dice, ok, sì, ho detto questa cosa giusta. In questi casi, soprattutto perché qui non si parla di dati, non si parla di cose, si parla di opinioni su un evento. E questa cosa purtroppo è molto, non so se il termine è giusto, è creatoria, molto arbitraria, diciamo. Questo è quello che personalmente penso. Una vicenda del genere, sì, si merita delle marce, si merita tutti i comizi che vogliamo fare, ma il vero cambiamento lo si fa nella vita di tutti i giorni con le piccole cose. Magari imparando a selezionare meglio le persone che abbiamo intorno. È importante, è purtroppo una cosa che non viene quasi mai insegnata. Imparando a trattare bene le persone che ci mettiamo intorno. Imparando a cercare di lavorare su quelli che sono i nostri tratti tossici. Ne abbiamo tutti. Anche se ci piace raccontarci, no, ma ne abbiamo tutti. Investire su noi stessi. Sì, queste sono tutte cose che non vedo come risultati di una vicenda e di tante altre simili del genere. Cioè, se vi piace tanto dire questo qui è il centocinquesimo femminicidio di fila, poi non manco capito se è veramente il centocinquesimo, non lo so. Mettiamo di sì. Quello che mi ha stupito è proprio sentire tutte queste persone dire ah, il centocinquesimo di fila, una vergogna. Sì, ma se è il centocinquesimo di fila, perché il tuo comportamento non è ancora, non dico cambiato completamente, ma un attimo migliorato, perché non hai fatto una presa di coscienza? Perché non ti sei un attimo messa a riflettere su questa cosa qui? Ti piace soltanto dire che sia il centocinquesimo, ti piace sbandierà il numerino, però sbandierà il numerino? Fa un po' di terrorismo psicologico? Quello sì, lo fa, ma dopo? Cioè, una volta che... Eh? Come... Che si fa? Cioè, dopo che si fa? Qual è il passo successivo? Molte persone questo passo successivo non se lo sono fatto passare neanche per l'anticamera del cervello. Questa è la cosa che mi ha offeso, se vogliamo. Magari fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto, penso che a questo punto possiamo anche sul canale smettere di dare fastidio a questa vicenda, però ci tenevo molto a parlarne un po' più nel dettaglio perché non volevo che passasse un messaggio sbagliato, diciamolo così. Quindi nulla, grazie per avermi ascoltato, grazie per essere stati qui. Qui sotto avete tutto quello che può servirvi e noi ci vediamo alla prossima.